buongiorno a tutti eccoci ancora con la video vendita di strumenti elettronici e teste qui siamo nel settore della philips philips uts 002 mi sembra che sia funzionante 40 euro philips service e philips service uno 40 euro che mi sembra che funziona l'altro da sistemare 20 euro chi li prende tutti la trae la serie faccio un po di sconto qui abbiamo un bellissimo tester che non riesco a capire il nome molto bello 25 euro con la sua scatolina visto e piaciuto e qua un metrom isolatore di isolamento 30 euro molto vecchio dell'epoca qui abbiamo un piccolo testerino che spettacolo palmare guarda la collezione come bellino 30 euro e questo è un testerone russo con tutta la rastrelliera per selezionare le varie unità di misura deve essere in bachelite ma guarda anche tester robusto 30 euro anche qui una bella serie di tester per la collezione anche da far vedere agli amici chi ne prende di più faccio un po di sconto ciao a tutti